Il sindaco di Porto Cesario ha annunciato nei giorni scorsi l'attivazione della rete fognaria, una notizia attesa e fondamentale per la storia del comune cesarino, una battaglia vinta grazie all'impegno di tanti amministratori che negli anni si sono impegnati per risolvere un annoso problema che rischiava di mettere a repentaglio lo stesso futuro turistico ed economico di quel territorio. Era il 24 gennaio 2021 quando il movimento Regione Salento, avendo da subito sposato la battaglia, è sceso in campo con un sit-in proprio nei pressi del depuratore. Nel luglio dello stesso anno il pressing è continuato con un flash mob per tenere alta l'attenzione sull'ennesima stagione balneare senza impianto fognario e denunciare l'immobilismo degli enti coinvolti. Rappresentati a Porto Cesario dalla vice sindaca Anna Peluso, i militanti del movimento Regione Salento, ma anche tutti i cittadini e le associazioni che hanno preso parte alle manifestazioni hanno rimarcato a gran voce la necessità di portare avanti a muso duro quella che hanno definito una battaglia di civiltà. Completare l'impianto fognario significa anche porre fine allo scarico in mare di riquami non trattati, pratica altamente dannosa per l'ambiente e per la salute di tutti, hanno sottolineato. Il non-sipotismo e l'immobilismo da parte degli enti preposti dura ormai da troppi anni e Porto Cesario è ingiustamente a rischio. Una levata di scudi trasversale con in prima linea anche l'assessore comunale Sambati e la partecipazione dei consiglieri regionali Gabellone e Mazzotta. Con il presidente del movimento Regione Salento, nonché consigliere regionale Paolo Pagliaro, la battaglia ha raggiunto anche il parlamentino barese. Nel marzo 2021 la prima audizione da lui richiesta in Regione, poi un'interrogazione, una seconda audizione ed un sopralluogo tecnico il 6 maggio 2021 con il dirigente della sezione regionale Risorse Idriche. E' una vittoria, dicono Peluso e Sambati oggi, di chi ci ha creduto veramente, di chi non ha avuto paura di farsi nemici, avendo a cuore solo ed esclusivamente le sorti del suo paese e non certo di chi ora canta vittoria. Potremmo dire tanto su chi c'era e chi invece si nascondeva dietro le quinte, per paura o ignavia continuano, ma a noi interessa solo aver raggiunto il nostro obiettivo e per questo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in questa battaglia di civiltà, mettendoci la faccia solo per amore di Porto Cesareo. Comunque la battaglia non è ancora terminata, concludono. C'è un intero territorio da collettare, senza sé e senza ma, e noi ci saremo per vigilare e controllare che non ci siano ulteriori ritardi politici.